Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita Oggi un vlog velocissimo giusto per discutere di un paio di cose Come sapete io vlog non ne faccio tanti ma ne faccio quando ho qualcosa da dire Quando c'è qualcosa che mi ha colpito o che mi ha dato fastidio Insomma una sorta di sfogo in tutto e per tutto Voglio parlare con voi di due tematiche principali che mi hanno colpito molto La prima è io a fine video vi lascio sempre la frase Vi dico sempre la frase, lasciatemi commenti e spesso dico anche costruttivi Io vedo che ultimamente l'argomento principale dei commenti che leggo è sempre basato sulla lingua dei giochi Quello che dovete capire è che io porto giochi Indie Nonostante poi qualcuno abbia detto che ultimamente sul mio canale non si vede più nulla di Indie Vabbè non dico nulla ma la lingua è sempre un grande dispiacere per voi vedo per tanti di voi Dove mi dite sai se arriverà in italiano sai se lo tradurranno in italiano oppure non è possibile che non ci sia l'italiano Allora quello che dovete capire poi io non lo dirò più davvero Non dico che sono scorciato però insomma voglio chiarire la cosa una volta per tutte Noi stiamo giocando adesso come gioco mentre parlo liberamente sto giocando a Horizon Zero Dawn Che è una produzione AAA giusto per provocare un pochino vi porto un AAA Questo è doppiato in italiano tradotto in italiano capolavoro della Sony insomma che ha portato Dei Guerilla che ha portato su Sony e poi su PC questo gioco Qua è tutto doppiato in italiano Io porto giochi Indie Gli Indie dovete capire una cosa sono sviluppati spesso da ragazzi e da giovani Da piccole compagnie che stanno investendo che hanno cercato una raccolta fondi Ora parliamo di una cosa se voi pubblicaste un gioco E con questo gioco voi voleste fare soldi non è una mentalità molto vincente questa devo ammettere Oppure voleste rientrare nei costi magari che dovete affrontare perché dovete pagare della gente della grafica Insomma voi pubblichereste il gioco in italiano o in inglese Sicuramente giocandolo in inglese e pubblicandolo in inglese avreste il 90% del mondo che ve lo gioca Pubblicandolo in italiano no Avreste una piccola nicchia di persone e basta Questa è la base di tutto Ora io trovo esagerato che a volte si dica è vergognoso che non sia in italiano Parlando di giochi magari action dove diciamo che le cose da fare sono veramente poche Ehm... la cosa da leggere scusate sono veramente poche Ehm... la trovo vergognosa come cosa Poi io non dico che il gioco non sia magari un domani traducibile Però non dico neanche che sia ingiocabile in inglese Ovvio se noi parliamo invece di titoli grossi come Divinity, Divinity, Original Sin, di Disco Elysium In inglese non li giocare nemmeno io perché c'è tanto da leggere Ovviamente dovete essere motivati a imparare Perché è ovvio che se un gioco è magari io volessi un domani giocare Disco Elysium Mi trovo l'impegno, me lo gioco col dizionario con Google aperto a fianco col traduttore E sicuramente dopo ore, ore ed ore sicuramente qualcosa di nuovo avrei imparato Ma se avete... chi ha una... non a voi ma in generale Se chi lo gioca ha una mentalità chiusa e dice No io in italiano quello che non è in italiano non gioco È una mentalità molto ristretta che non gli consentirà di giocare molti giochi Quindi qua la chiudiamo nel senso che non vuoi farlo? Non farlo Però io non ne ho colpa Io porto dei giochi che spesso mi vengono proposti Sono gli sviluppatori a puntare su questa community Perché dicono ok, è una micro community però è gente che comunque è interessata Acquista, vuole vedere un gioco, giocato magari anche non in modo di successo insomma Ma fallendo Quella è la verità Ed è il motivo per cui spesso, fortunatamente nell'ultimo periodo Ha deciso di puntare su di me anche qualcuno di un po' più grosso Tipo HQ, THQ, Nordic o Coach Media Che ringrazio per Iron Harvest e Wasteland 3 Tra l'altro Wasteland 3 non è tradotto in italiano Però quello è un grosso gioco magari un domani lo sarà E lì è da giocare leggendo, fermandosi Però onestamente io sono stufo di leggere commenti di questo tipo Io voglio commenti costruttivi che si discutano del gioco Che si dica cosa c'è che va e che non va Ok, questa è la cosa che ultimamente mi ha un po' colpito E di cui volevo parlarvi Io mi sento veramente, mi hanno proposto dei giochi a volte Anche delle compagnie medio grosse E io gli ho detto, scusate ma l'italiano c'è no Perché qua se io porto un gioco in inglese sembra che io faccia un torto E la gente poi mi minaccia che si disiscrive Ora, quello che cambierà da adesso in pochi Adesso io porto i giochi che io reputo più meritevoli E onestamente se poi voi non lo apprezzate E qualcuno di voi vuole disiscriversi Lo faccia Perché purtroppo gli indie in italiano Purtroppo ne esistono pochi Spero di dire che non ne esistono Quindi la realtà è questa La seconda tematica che volevo dire Di cui volevo parlare È il canone mensile Non mi aspettavo onestamente dei messaggi, dei commenti Con il fatto di pagare un abbonamento E fin qui ok Però mi colpisce molto anche il fatto che io ho degli amici Che comunque hanno detto la stessa cosa Hanno detto no io non pagherei mai Io non pagherei mai No io per un gioco non pago Allora, a parte una cosa che Si lotta costantemente con magari persone più vecchie di noi Per convincerli che i giochi non sono cazzate Ma i giochi sono quello che una volta magari era la televisione O tante altre cose Ora l'intrattenimento va più in questa direzione Sul videogioco E mi sorprende anche vedere che tra chi ha commentato C'è anche chi pretende di avere un gioco O anche amici che conosco Pretende di avere un gioco Che gli consenta di giocare per dei mesi Senza spendere un euro Ma scusatemi Mettetevi nei panni Voi adesso fate uscire un gioco Avete magari le conoscenze Programmate Fate un gioco Poi Dopo un mese Programmate di preparare un altro contenuto Lo fate Lo aggiungete Lo aggiungete in modo che la gente giochi di continuo al vostro gioco E la gente e voi stessi mangiate aria E il discorso è questo Non è brutto pagare Non si paga più Pagate Netflix Pagate Disney Plus Pagate Amazon Prime Infinity Sky Di cose da Da Zon Io sono il primo a farlo Perché è un gioco no? Perché è reputato anche voi il gioco? No Perché ci giocate Che discorso è? Ovvio Se io gioco a un gioco Questo gioco qui Esempio Che sto facendo ora Questo gioco Magari porta via 40 ore 60 ore Io ho giocato a 70 ore Assassin's Creed Odyssey Ok È un gioco che è basato su DLC Alla fine spendete 60 euro Lo trovate scontato a 30-40 Ok Ne spendete altri 15-20 Per il DLC Però ci ho speso 70 ore Sono stato contento Se un gioco me ne porta 400 E io pago l'abbonamento Che costa 12 euro E ci gioco 6 mesi Ne ho spesi Comunque parecchi 5 mesi Più facile da calcolare 12 euro per 5 mesi 60 euro Ho speso 60 euro Ci ho giocato 5 mesi Quali altri giochi ci gioco 5 mesi? Se poi ci gioco 3 anni E ho speso 12 euro al mese Ho speso il mio tempo lì E non un'altra ora Non avessi speso i soldi lì Avrei già comprato altri 4 giochi Da 40-50 euro l'uno Ragioniamo su questo discorso qui Io mi riferisco poi Soprattutto a Dual Dual Universe Dual Universe Cosa è successo? Hanno chiesto per la beta Poi non so se nel gioco finito sarà così Hanno chiesto 7 euro al mese 21 euro per 3 mesi O 60 euro per un anno Ma è basato interamente su un gioco Una cooperazione online Pago gli sviluppatori Me lo portano avanti Me lo sviluppano Poi è opinabile il fatto che non sia ancora uscito Che sia buggato e tutto Però Hanno chiesto un supporto A me piace lo spazio Lo gioco lo pago Lo costruisco Interagisco con gli altri Non mi piace Non pago quello Voglio giocare a Warcraft Pago 13 euro al mese O prendo il pack Da 21 euro Da due mesi E mi gioco due mesi Warcraft So che Quello lo doppiano Direttore in italiano In ogni contenuto Ragazzi Io ho percepito in me Anche un pochino di timore A portare Oltre al discorso della lingua Anche questo discorso del canone Ma ora ho intenzione Di non preoccuparmi più Volete pagare? Pagate Ma mi sembra Guardandomi intorno Che nessuno voglia pagare Quindi dico C'è qualcosa di sbagliato in me? Che pagherei? Se una cosa mi piace? Mi piace Netflix Voglio guardare Pago Netflix Non mi piace Nessun problema Però non Ho visto anche Qualche pseudo insulto Agli sviluppatori Non è possibile Non è possibile Non è possibile Hanno chiesto dei soldi Poi rimedi perché Gli hanno bisogno Ragazzi Io ho giocato 400 ore Ad Archage Non ho speso un euro È vero Ma loro vanno avanti Con le transazioni E vi dico Che giocandoci Mi è venuto anche voglia Di comprare Dei costumi Non servono a nulla Però mi è venuta voglia Perché il gioco mi piace Mi piaceva vedere il personaggio Vestito in un altro modo Magari con un oggetto Più bello da vedere Non mi dava nulla di più Cioè È una mentalità Nuova questa Non Il canone Io lo pago Se ci gioco Nel momento in cui Non ci gioco Non pago più Fine Oppure Mi sento Un altro ragionamento Mi sento obbligato a giocarci Ma da che? Perché se tu inizi un gioco Convinto già Che vuoi giocare ad altro Non iniziare nemmeno Il discorso è quello Se io vedo un gioco Mi piace Costa Lo voglio comprare Perché conto di giocarci Se lo installo E poi Non ho neanche più Intenzione Di Non sono neanche più convinto Di volerci giocare Perché l'ho comprato Il discorso è Molto Molto semplice Bene Comunque Volevo dirvi Se siete arrivati fino a questo punto Del video Volevo dirvi anche Che io In questa settimana Sarò in ferie Ma ho pianificato Altri video Ovviamente È una discussione Puramente amichevole Niente di Di Non c'è Nessun Nessun Asteo Verso nessuno Insomma È una cosa che volevo chiarire Perché mi è capitato Di parlarne più volte Con un amico E di dire Però è possibile Che gli argomenti principali Siano il canone E Il canone mensile Non Ovviamente Dei videogiochi E la lingua Perché io Onestamente Ho anche accettato Delle proposte Di portare alcuni giochi E vi parlo di proposte Dove Tutto si conclude A un Ti do una chiave di gioco Lo provi Fai in video Per la tua community Fine Darmi il link Fine lì Niente soldi Assolutamente Non ho mai ricevuto nulla E ho accettato roba Anche in inglese Quindi onestamente Io Arriveranno dei titoli Ovviamente Questo gioco qui È figo In italiano È doppiato Ma una tripla Ma una tripla Ovviamente Subnautica Non sarà mai doppiato Probabilmente Subnautica Lo hanno Diciamo Tradotto Gli utenti O comunque Un supporto Una community L'indie È così Se no Cambiamo E non facciamo più Questo per tornare Per l'ultima volta Al discorso lingua Torniamo E facciamo solo AAA Giochiamo ad altro Insomma Non facciamo più Indie gameplay item Ma facciamo AAA Gameplay item Si può anche fare Però insomma Io gioco sia uno Che l'altro Però insomma Lo scopo era quello Di farvi riconoscere Dei titoli E quindi Non possiamo Fissarci Nemmeno su quei discorsi Che nel corso degli anni Ho sentito anche quelli Discorsi arcaici Che Io sono Mi chiamo Gameplay ita E quindi Il gioco deve essere in italiano Che è Il commento più assurdo Che vi ho mai ricevuto Gameplay ita Perché io parlo in italiano Ovviamente Fino a Prova contraria Quindi È quello E quindi Niente Porta giochi in italiano Porta giochi in italiano Non ce ne sono Di indie in italiano Il discorso è quello Comunque La chiudiamo qui Ho fatto questo vlog Per augurarvi Se non le avete già fatto Buone vacanze Quest'anno un po' così Insomma Sarò via una settimana Ma come dicevo I video verranno pubblicati Ugualmente Non sono morto In questo gameplay Comunque vorrei far notare Comunque Buone vacanze Io sarò Via Insomma Però Avrò modo comunque Di rispondere ai commenti Soprattutto di questo vlog Anzi dire la verità Quando lo vedrete Io sarò già Partito da Più di 24 ore Però Ecco Sono sempre Reperibile con i messaggi Ai video E in settimana Usciranno alcuni video Sono Bollano in pentola Anche Alcuni giochi Diciamo che sono Un po' Una via di mezzo Tra Un doppia Un tripli Un indie Alcuni giochi Che Soprattutto uno Che ha un costo Veramente esorbitante Su steam E valuteremo Se ne vale la pena E quindi Un abbraccio a tutti E grazie per aver visto Questo vlog Alla prossima E ciao ciao Alla prossima